Una delle preghiere che spesso facciamo, una delle richieste che spesso facciamo in preghiera è Signore accresci la nostra fede. Credo che questo sia il desiderio di ogni sincero credente, quello di avere una fede più forte. E la domanda che mi sono posto e la domanda che voglio fare anche a voi è questa. In che modo il Signore accresce la nostra fede? Ve lo siete mai chiesti? Io me lo sono chiesto e la risposta che ho trovato è questa. Egli accresce la nostra fede mettendo alla prova la nostra fede. La nostra fede cresce, si fortifica nei momenti di prova, nei momenti di difficoltà. Allora vedete implicitamente quando noi chiediamo al Signore di accrescere la nostra fede, implicitamente gli stiamo dicendo Signore mettimi alla prova, Signore crea delle difficoltà nella mia vita. È questo che gli stiamo chiedendo. Perché è solo attraverso le prove e le difficoltà che noi maturiamo e cresciamo nella fede. E credo che sia importante riflettere su questo. Perché tante volte vediamo le prove e le difficoltà come qualcosa di negativo nelle nostre vite. In realtà Dio ci sta benedicendo attraverso quella prova e quella difficoltà. sta rispondendo alla nostra preghiera, sta accrescendo la nostra fede, mettendola alla prova. Un'altra richiesta che facciamo spesso è Signore desidero consacrarmi sempre di più a Te, desidero essere santo come Tu sei santo, desidero assomigliarti sempre di più. E anche questa è una richiesta che il Signore esaudisce, soddisfa. In che modo? Mettendoci nelle afflizioni. È attraverso le afflizioni che Dio trasforma le nostre vite. È attraverso le afflizioni che Dio trasforma il nostro cuore, la nostra mente. C'è un salmo, un versetto di un salmo dice Prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la Tua parola. Vediamo che con queste parole il salmista sta dicendo, grazie all'afflizione mi sto consagrando di più a Te. L'afflizione è lo strumento che mi ha portato a mettere in pratica la parola di Dio. Questo dice il salmista. Poi c'è un'ultima cosa che volevo dire. Noi spesso diciamo al Signore, Signore, vivi nel mio cuore, vivi al posto mio. Poi durante la giornata cosa succede? Che incontriamo sul nostro cammino delle persone che mettono a dura prova la nostra pazienza. A volte i familiari stessi, la moglie, il marito, i figli. A volte incontriamo delle persone che ci provocano proprio e anche in questo caso il Signore sta rispondendo a quella preghiera. Gli abbiamo chiesto vivi nel mio cuore, vivi al posto mio. E dove e come può vivere il Signore al posto nostro? Proprio di fronte alle provocazioni, quando veniamo scherniti, presi in giro. Quando la nostra pazienza umana viene messa a dura prova, è lì che il Signore vuole vivere, vuole intervenire e vivere al posto nostro. Quindi per epilogare questo breve pensiero, noi ricordiamoci sempre che quando chiediamo a Dio di accrescere la nostra fede, gli stiamo chiedendo di metterci alla prova. Salmo 139, vado a memoria, l'ultimo verso, se ricordo bene, dice mettimi alla prova, Signore scrutami. Ecco questa era la preghiera del salmista lì, mettimi alla prova, scrutami e vedi se c'è qualche via inique, purificami. Adesso studiamo questa brevissima riflessione. Ricordiamoci, quando chiediamo al Signore di accrescere la nostra fede, noi gli stiamo chiedendo di metterci alla prova. Gli stiamo chiedendo di metterci nelle difficoltà. E quindi quando arriva la prova e quando poi arriva il momento difficile, ecco non lo vediamo come un fatto negativo o come una punizione da parte di Dio. Dio sta semplicemente rispondendo alla nostra preghiera. Ci sta crescendo la fede attraverso la prova e la difficoltà. Quando chiediamo al Signore, ricordiamo anche questo, Signore santificami, voglio essere consacrato a Te, voglio camminare secondo la Tua parola. Ebbene Dio può rispondere attraverso un'afflizione, perché l'afflizione, vedete, ci porta più vicino a Dio. L'afflizione, la prova e le difficoltà hanno un duplice scopo. Hanno lo scopo di attirare sempre di più i figli di Dio verso Dio e hanno lo scopo di mettere in luce i falsi credenti. Quando Dio ci mette alla prova, il credente vero viene fortificato nella fede, il credente falso viene svergognato. Perché? Perché si tira indietro, come dice il Signore Gesù nella parabola del seminatore. Quindi quando arriva l'afflizione, non prendiamola come una punizione, un fatto negativo. Dio sta rispondendo alla nostra preghiera, ci sta attirando a sé, sta facendo sì che ci consacriamo sempre di più a Lui. E quando veniamo provocati, quando la nostra pazienza viene messa a dura prova, quando vorremmo proprio reagire carnalmente e abbiamo mille motivi al giorno per reagire carnalmente. Ecco, ricordiamoci che in quel momento là il Signore sta dicendo, Mario, tu stamattina mi hai chiesto di vivere nel tuo cuore, mi hai chiesto di vivere al posto tuo. Bene, io ti sto dando le occasioni per lasciarmi vivere al posto tuo. Perché se durante le mie giornate non vengo mai provocato, va sempre tutto bene, diciamo così, se umanamente scorre tutto il liscio, io non lascio vivere il Signore in me. Va tutto bene, umanamente la situazione ce l'ho sotto controllo. Noi siamo chiamati a lasciar vivere Cristo proprio quando la nostra carne vorrebbe reagire a malo modo. Quindi concludo questa riflessione con questo incoraggiamento che stamattina il Signore ha fatto prima di tutto a me stesso. Tu mi chiedi di aumentarti la fede, di accrescere la tua fede. Ecco, io lo faccio attraverso le prove. Mi hai chiesto che mi hai espresso il desiderio di una consacrazione maggiore. Bene, io lo faccio attraverso la via dell'afflizione. Mi hai chiesto di vivere in te. Benissimo, lo faccio proprio attraverso le provocazioni che gli uomini possono farci. Lo faccio attraverso quelle situazioni dove la tua carne avrebbe mille motivi per reagire. E quindi ricordiamoci che il nostro Dio risponde sempre alle nostre preghiere. Spesso risponde in modo che noi non comprendiamo perché vediamo quella risposta dal punto di vista carnale, terreno. Impariamo a vedere le risposte di Dio dal punto di vista spirituale. Che Dio possa donarci degli occhi spirituali per vedere come Lui vede. E allora solo così riusciremo a ringraziarlo, a lodarlo e ad essere riconoscenti anche quando le cose umanamente non vanno come il nostro cuore carnale desidererebbe. Ricordiamoci che ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. Ogni cosa coopera al nostro bene. La prova, l'afflizione, la provocazione, il collega di lavoro difficile. Spesso Dio ci mette a fianco proprio persone difficili. Proprio perché è in quelle situazioni che vuole manifestare la sua vita attraverso di noi. Ed è in quei momenti lì che siamo chiamati a morire a noi stessi e a lasciare vivere Cristo. Solo così potremo rendere poi una testimonianza efficace e una testimonianza credibile. Quelle testimonianze che raggiungono il cuore delle persone e non solo la mente. Ringraziamo il Signore per tutto quello che permette nella nostra vita. Egli accura il nostro bene. Egli ci ama. La cosa che Dio ha a cuore è la nostra felicità. Fidiamoci di Lui e continuiamo il nostro cammino proprio con lo sguardo rivolto verso il Signore. Un caro saluto a tutti voi.